Daniele Bartolini centrocampista del Savona, un buon test oggi contro il Bra e sfiorato anche il gol nella ripresa con un gran tiro della distanza che ha colpito però il Polo, quale indicazioni potete trarre da questo amichevole? Ho visto che a differenza dell'altra squadra eravamo un po' più brillanti, penso che l'amichevole che non solo io ma tutti avevamo le gambe un po' più brillanti, dopo tre settimane diciamo due di ritiro e una con qualche doppio e niente, stacchiamo questi due giorni, due giorni e mezzo da questi allenamenti, però per il resto la squadra è bene, siamo tutti nuovi, ne aveva un po' più di pazienza per conoscerci, per capirci un attimino, però siamo una bella squadra dai. Ecco, rispetto al reparto arretrato dove sono stati confermati tanti giocatori dell'anno scorso, centrocampo attacco, come hai detto tu, tanti volti nuovi, come state lavorando con il mister, cosa vi chiede in particolare? Il mister ci chiede di fare prima di tutto squadra, sia fuori che dentro il campo, poi come ogni squadra ha il suo modulo, noi quello che ci dice lui cerchiamo di proporlo al meglio e niente, ci conosciamo piano piano dai. Grande esperienza in questa categoria, vieni dalla Pavia, secondo te quali possono essere gli obiettivi del Savone in questa stagione? Ma gli obiettivi, secondo me, io non sono uno che gli piace dire la vittoria del campionato, cosa, a tutti piacerebbe, però partita dopo partita, per arrivare a un solo obiettivo, cioè quello di arrivare più in alto possibile, questo.